Ancora un tratto di spiaggia sotto sequestro a Villa Mare di Vibonati. Gli uomini della Guardia Costiera di Sapri, guidati dal comandante Gaetano Scotta, hanno messo i sigilli ad un'area prossima alla foce del rio Cacafava. Il provvedimento dei militari è giunto a seguito delle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Lago Negro. I cumuli di rifiuti presenti lungo il corso d'acqua sono costituiti, come vediamo anche dalle immagini, da plastica, ferro, scarti edili ed anche due piccole imbarcazioni. E' soltanto l'ultima discarica in ordine di tempo rinvenuta sul litorale di Villa Mare, bandiera blu d'Europa. Rifiuti erano stati segnalati già sul litorale dell'Oliveto, sepolti sotto la sabbia, a riportargli le mareggiate dello scorso anno. Un'altra discarica, su cui è ancora atteso un provvedimento di dissequestro da parte della Procura Lagonegrese, in attesa che il comune di Vibonati intervenga per la carbonifica, si trova in Contrada Santa Maria le Piane, al confine con il comune di Ispani, anche in questo caso sulla spiaggia a pochi passi dal mare. Anche per quanto riguarda la discarica nei pressi del Cacafava, c'è il rischio che le onde, raggiungendo i cumuli di mondizia di vario genere ammassati sul posto, li portino in mare.